Storia di una famiglia per bene, il riassunto della prima puntata. Maria, figlia di Antonio, pescatore, e Teresa, casalinga, un giorno cade in mare e viene salvata da Michele. Si trovano a Barivecchia e, poco tempo dopo, si ritrovano in classe insieme, ma Michele è il figlio di un criminale. Gli Straziota, la famiglia del ragazzo, avevano ucciso anni prima il papà di Antonio, il nonno di Maria. È per questo che Antonio non vuole che la figlia sia a contatto con Michele. Il professore di lettere di Maria parla con i suoi genitori e dice loro che se la figlia ha qualche possibilità in futuro di andare in un buon liceo, deve andare in una scuola privata, in una scuola media privata. Dice di aver parlato con le suore del Sacro Cuore e che sono disposte ad accettare Maria. Teresa e Antonio accettano il prestito di un loro amico per il bene della figlia. Alla scuola privata ha problemi con le compagnie di classe che sono grandissime snob. Con il passare dei mesi non ha affatto dimenticato Michele e i due si rivedono. Antonio, quando vede sua figlia sul motorino di Michele, decide di andare dal padre di lui e fanno appugne. La famiglia straziota decide di vendicarsi e così prendono delle taniche di benzina e danno fuoco al peschereccio di Antonio. Adesso, senza peschereccio, sono ancora più poveri di prima. Nel corso della puntata si è visto che i De Santis sono poveri e che Antonio non vuole giungere a compromessi per quanto riguarda il suo lavoro, vuole rimanere onesto. A quanto pare, però, il suo comportamento così esemplare è solo al di fuori delle mura domestiche, perché dentro casa si trasforma e diventa aggressivo e violento. È stato detto più volte che picchia moglie e figli. Critica tanto gli straziota perché sono dei contrabbandieri, ma lui se la prende con le persone della sua stessa famiglia. Grazie a tutti.